Allora buongiorno a tutti, ringrazio anche io ovviamente della straordinaria opportunità che ci è stata data dalla regione toscana. Allora il nostro progetto si chiama Archimaremma, è un progetto diciamo che considerato il raggruppamento che voi avete fatto dei progetti poteva stare forse anche nel primo gruppo degli archivi, però effettivamente se poi uno si sofferma su quelli che sono gli obiettivi del progetto, l'obiettivo principale è quello di contribuire ad arricchire il quadro delle conoscenze sul paesaggio della Maremma, in questo caso della pianura alluvionale della pianura dell'Ombrone, nel comune di Castiglione della Pescaia e di Grosseto. Devo una piccolissima premessa, prima di lasciare la parola a Mara Visonacche, vedo l'assegnista. Riesci a condividere Mara? Grazie. Una piccola premessa è che questo progetto dell'assegno di ricerca si inserisce in un progetto ben più ampio, del quale fa parte anche il collega Stefano Campana, io sono del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Bene Culturali di Siena. Questo progetto più ampio che è in questo momento diciamo al vaglio del Presidente della Regione, è un progetto ambizioso, un progetto ambizioso che va avanti da diversi anni ed è un progetto di candidatura UNESCO del paesaggio della Bonifica Maremmana. Ovviamente per costruire un percorso di candidatura c'è bisogno di conoscenze, bisogno di conoscenze molte delle quali sono già in nostro possesso anche perché il contesto della Maremma, un contesto non solo studiato ma un contesto per il quale nel corso dei secoli si è prodotta una mola incredibile di documenti proprio per contribuire a risolvere il problema degli allagamenti e quindi ve la bonifica. Puoi andare alla seconda slide, grazie Mara. Non so se lo puoi mettere anche a tutto schermo. Vedete tutto schermo? Quello con i partner volevo. Quella precedente o quella, ecco grazie rimane su questo. Ok c'è un po' di ritardo nello scorrimento. Perfetto. Quindi abbiamo individuato come ente della filiera l'archivio di Stato di Grosseto, archivi che come sapete hanno spesso difficoltà a diciamo valorizzare, a far conoscere il loro patrimonio. Anche perché nell'archivio di Grosseto conoscevamo questo fondo, il fondo del genio civile che sapevamo da tanto tempo quindi lì esistente ma non valorizzato e nemmeno catalogato. L'ente invece, quindi l'ente della filiera culturale creativa all'archivio di Stato, mentre il cofinanziatore è stato il consorzio di bonifica CB6, il consorzio di bonifica della Maremma. Dovrebbe essere collegata anche l'ingegnere Valentina Chiarello e forse anche il presidente. Sicuramente. Ecco non nego che, poi lascio la parola alla senista, che i problemi della pandemia si sono sentiti. Si sono sentiti sicuramente, non so, dagli altri non sono stati citati ma nel nostro caso sono stati evidenti. Anche perché il lavoro previsto sarebbe stato concentrato nell'archivio di Stato e nell'archivio di Stato siamo riusciti a entrare un anno dopo, oltre un anno dopo. Pertanto abbiamo, diciamo, rivisto il programma, le nostre tempistiche e doveva essere un lavoro minore ma alla fine il lavoro più consistente è stato quello presso il consorzio di bonifica che non essendo un ente pubblico ma un ente privato, quindi ha messo a disposizione il proprio archivio che anche in quel caso non era mai stato nemmeno riordinato, pertanto l'assegnista ha svolto la prima parte tutto il primo anno del lavoro presso l'archivio del, presso il consorzio di bonifica e poi si è spostata presso l'archivio di Stato. Io per entrare appunto nel vivo, altri partner scusate, sono gli stessi partner che con i quali stiamo faticosamente, questo non lo nego, portando avanti da qualche anno questo percorso di questi studi finalizzati al percorso di candidature, sono il comune di Grossete, il comune di Castiglione, Vella Pescaia, il parco Vella Maremma e poi ho già detto quindi il consorzio di bonifica. Prego Mara ti darei subito la parola. Buongiorno, mi sentite? Sì, perfetto. Allora io riprenderei brevissimamente la prima slide per chiarire un attimo gli obiettivi del progetto. Gli obiettivi del progetto è comunque già accennato la professoressa, erano inizialmente leggermente differenti e poi abbiamo dovuto chiaramente rimodulare sulla base delle disposizioni Covid e di quello che potevamo fare nel momento in cui i lavori dell'assegno sono iniziati. Fondamentalmente è un progetto che si articola, possiamo dire, su due filoni principali. Quello della ricerca vera e propria, quindi quello della schedatura e dall'analisi del materiale di archivio e poi un secondo filone più dedicato alla diffusione dei risultati del progetto che comunque rimane un progetto che mira ad avere un notevole impatto sulla comunità locale. Come accenna la professoressa appunto l'ambizione è quella di produrre poi una candidatura UNESCO del progetto dei paesaggi di bonifica della Marema, probabilmente una candidatura congiunta con altre aree per valorizzare proprio quello che è il paesaggio di bonifica in generale. Gli aspetti rilevanti di questo progetto, come già accennato, sono quelli legati agli archivi, archivi di cui si conosceva chiaramente l'esistenza, ma di cui non avevamo alcuna cognizione del contenuto. Il primo anno appunto ci siamo concentrati sull'archivio storico del consorzio in bonifica. In questo caso abbiamo dovuto proprio andare a cercare il materiale, il materiale non era custodito tutto nello stesso posto, chiaramente la maggior parte sì, ma abbiamo dovuto cercare sulle tre sedi del consorzio per capire se c'era stata dispersione del materiale, perché è un materiale che viene tutt'ora utilizzato, quello del consorzio costituisce l'archivio storico, è un archivio vivo possiamo dire nel vero senso della parola, perché viene tutt'oggi utilizzato frequentemente per fornire un background storico ai progetti tutt'oggi in corsa. Dunque una volta radunato tutto il materiale in un'unica sede, una volta individuate le serie in cui abbiamo suddiviso il materiale, alcune erano già facilmente individuabili, la serie dei progetti e la contabilità legata, ci sono state altre serie come quella delle attività amministrative e di gestione del consorzio che abbiamo dovuto ricomporre perché erano faldoni che erano stati dispersi presso i vari uffici. Le unità schedate ammontano a 920, forse il numero è anche un po' più alto ma comunque siamo a 920 schede che comprendono sia buste, quindi sia faldoni con documenti dentro, sia dei registri, quindi i libri rimastri dei lavori e altri formati relegati. Gli estremi iconologici vanno dal 1928, quindi dall'anno di fondazione del consorzio, stiamo parlando tra l'altro oggi del consorzio di bonifica Toscana Sud, dall'epoca che oggi ingloba vari consorsi di bonifica preesistenti, il materiale su cui ci siamo concentrati è quello dell'ex consorzio della bonifica grossetana, quindi dell'area proprio della pianura circostante Grosseto che arriva appunto, si spinge al nord fino a Castiglione della Pescaia. Il materiale è composto in maniera molto varia, ci sono progetti, ci sono disegni, ci sono appunti anche, c'è contabilità, corrispondenza e articoli di giornale, evidentemente c'è stato un ufficio stampa che si è occupato anche di raccogliere questo materiale. Spostandoci invece l'anno successivo sull'archivio storico di Grosseto abbiamo avuto modo di schedare la parte relativa alle bonifiche della pianura grossetana e di Castiglione relativa al secondo versamento del genio civile. Anche qui il materiale è piuttosto vario, ci sono progetti, disegni, contabilità. Gli estremi cronologici sono un po' più ampi perché si va dal 1831, abbiamo avuto insomma questa sorpresa, ci aspettavamo materiale tendenzialmente più recente o comunque di una cronologia comparabile con quella del consorzio bonifico, abbiamo invece avuto la sorpresa di trovare anche una cronologia relativamente abbastanza remota e si va fino al 1982. Le unità schedate sono 688. La schedatura di questo materiale è stata molto importante perché ci ha permesso anche di avere contezza di un aspetto forse un po' incognito della bonifica grossetana che è quello dei lavori eseguiti dal governo postunitario che è sempre stato ritenuto abbastanza, come dire, poco incisivo nei lavori di bonifica e che invece abbiamo visto essere stato molto vivace, aver investito molto sulla bonifica. Cosa è stato fatto con questo materiale? Il materiale è stato schedato, quindi è stata creata una schedatura preliminare, sono due, sono state create due schedature differenti perché sono state fatte due schedature a livello differente, due lavori di dettaglio differente sull'archivio del consorzio e sull'archivio di stato perché chiaramente il materiale era in condizioni differenti quindi non è sempre possibile applicare la stessa tipologia di scheda di rilevamento dati a tutti gli archivi. L'analisi del materiale appunto si è concentrata poi sull'individuazione della documentazione cartografica che è quella che principalmente ha permesso di analizzare il cambiamento del paesaggio e abbiamo poi creato degli strati informativi in ambiente GIS per inserire i dati della documentazione che non presentava elaborati grafici. Per quanto riguarda la diffusione dei risultati, è stato pubblicato uno studio tematico riguardante appunto la storia delle bonifiche, uno studio comparativo che compara il caso Grossetano con altri casi in Italia e con casi nel mondo che è una fase preliminare di quella che sarà poi la candidatura, ma sono anche stati realizzati molti incontri col pubblico, con le scuole e addirittura della formazione docenti riguardante le analisi del paesaggio, l'analisi dei paesaggi storici, dell'evoluzione incentrata poi con vari casi studio su Grosseto e appunto presentazioni del volume in varie occasioni. Le prospettive future sono moltissime, abbiamo deciso per semplicità di riassumerle in questi due punti, la prima come si diceva la candidatura a UNESCO, non mi dilungherò su questo, l'altra è la prosecuzione e la diffusione dei risultati del progetto, in qualsiasi forma potrebbe essere la pubblicazione appunto di un webgis come la continuazione di questi incontri col pubblico, abbiamo in effetti avuto molti accessi in archivio, nell'archivio storico di Grosseto, di persone che a seguito delle presentazioni richiedevano materiale e insomma avevano mostrato interesse per questa schedatura che abbiamo effettuato. Io concludo qui e vi ringrazio per l'attenzione. Posso aggiungere una cosa brevissima, nelle possibilità di espansione insomma diciamo di questa implementazione di questo progetto che era uno dei nostri obiettivi e che non è stato realizzato sarebbe quella di mettere in sinergia non solo implementare questa banca dati ma metterla in sinergia con altre banche dati che già di cui già disponiamo, di cui già dispongono anche gli enti locali quindi creando ovviamente ampliandola il quadro delle conoscenze sempre appunto sull'ambiente GIS, quindi arricchendolo in questo modo e integrandolo. Grazie.